Buona giornata amici, oggi è martedì 7 dicembre 2021. Il sole sorge alle 7.28 e tramonta oggi alle 16.31, una giornata ancora molto breve in attesa che cambi la stagione il 21 dicembre. E comunque diamo subito uno sguardo ai giornali questa mattina, però prima guardiamo qual è il santo del giorno, perché è un santo molto molto particolare, un santo molto noto, molto festeggiato soprattutto a Milano. Ecco, lo vedete nel video, è Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio nacque a Treviri, allora nelle Gaglie, ora nella Germania, una cittadina della Germania. Fu nominato vescovo dai milanesi a furor di popolo. Ambrogio in quel tempo era il governatore di Milano, ma c'era una diatriba tra i cattolici e gli ariani. E quindi per sanare la situazione i milanesi, vista la rettitudine del loro governatore, lo spinsero a farsi prima diacono, poi sacerdote, poi vescovo, insomma, e Ambrogio accettò. La sua elezione risolse dunque questa diatriba. Ebbè Sant'Ambrogio si distinse per la sua rettitudine. E soprattutto fu colui che spinse la conversione di un altro santo molto molto famoso, ovvero Sant'Agostino. Fu dottore della chiesa Sant'Ambrogio e ancora oggi è il patrono di Milano, quindi particolarmente venerato e festeggiato. E ora diamo un'occhiata al tempo. Vediamo che il tempo sulla cartina delle Marche dovrebbe migliorare. Infatti le previsioni danno un tempo stabile e soleggiato, salvo nubi sparse al mattino e qualche piovasco nella costa. Le temperature massime non vanno oltre gli 8 gradi, sono piuttosto fredde questa mattina. Infatti la minima è di 3 gradi e la massima 8. Ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico a partire dalla prima pagina del giornale. La sintesi delle notizie parte dalla sanità e dalle ripercussioni che i provvedimenti sanitari determinano sulla vita di tutti i giorni, in modo particolare sui trasporti scolastici. Niente pass, studenti a piedi è una delle conseguenze per chi non osserva le norme. Il debutto del super Green Pass certificato fa sì che ci siano stati anche subito ieri dei controlli nei bus. Altri ragazzi avevano il codice per il tampone che non è più valido. Le verifiche sono state compiute anche nei ristoranti, nei bar, nelle palestre. A Fano la polizia locale ha sanzionato due titolari di un locale. La fotonotizia centrale, dedicata ad un episodio di cronaca, è un babybullo che furoreggiava in Piazza Redi che ora finisce in carcere. E poi le tre notizie centrali, per quanto riguarda la bonifica dell'ex AMGA a Pesaro, i costi dei lavori subiscono dei ritocchi in aumento. A Vallefoglia c'è un incendio molto molto forte, molto molto spettacolare e anche grave che ha bruciato quintali di legno da spedire. A Pesaro un patto, un patto politico tra Forza Italia e Partito Democratico grazie all'intermediazione del assessore regionale Stefano Aguzzi, il quale dice, lo rivendico, si deve governare. E poi ancora cronaca, a fondo pagina, ricatti, minacce e botte, l'ex è diventato un incubo. L'uomo ha processo dopo la denuncia della donna, il fatto è avvenuto a Fano. Apriamo il giornale, vediamo subito la situazione del Covid. Il Covid ora rallenta, secondo quanto afferma il Corriere Adriatico. I contagi scendono da più 30 a più 7%, ma sarà veragloria il titolo che lascia un po' di dubbio sull'evolversi soprattutto della situazione. In una settimana intanto il virus ha infettato meno, però crescono i ricoverati in ospedale e si profila purtroppo la zona gialla. Il 27 dicembre potremo cambiare colore. Si dovrebbero inasprire in quel caso anche i provvedimenti per tutelare la salute. E poi abbiamo un altro virus che, insomma, si tiene un po' assopito in questo momento, ma è lì pronto, pronto per risvegliarsi. Ed è quello dell'influenza. Quasi sparita nel lockdown, l'influenza torna a colpire. Attenti, dicono i medici, si confonde con il virus. Il dottor Maggi, che partiene alla Federazione dei Medici di Medicina Generale, dice procediamo con la doppia vaccinazione. Abbiamo qualche caso, ma sicuramente l'influenza non è diffusa come prima della pandemia da Covid. E perché questo? Perché le mascherine, il distanziamento sociale hanno contribuito in maniera determinante a fermare il virus. E quindi l'influenza è stata in qualche modo contenuta. Ancora vediamo gli effetti appunto dei provvedimenti del Super Green Pass. Papà, vieni a prendere, mi è scaduto il Green Pass e non posso salire sull'autobus. È uno dei casi che si è verificato nella giornata di ieri. In seguito ai controlli che le forze dell'ordine hanno attuato, soprattutto alle fermate dei bus, sono stati controllati gli studenti e qualcuno è stato trovato in difetto perché il suo Green Pass era scaduto oppure non era in regola. Un primo giorno comunque senza particolari intoppi, fatta eccezione per qualche studente senza pass, bloccato comunque prima di salire. E qui abbiamo anche una tabella molto molto esplicativa per quanto riguarda l'osservanza delle regole. Abbiamo i casi in cui serve il Super Green Pass vaccinati e guariti, il quale garantisce l'accesso a spettacoli, a concerti, cinema, teatri, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche a cerimonie pubbliche. Basta il Green Pass base invece per accedere agli alberghi, al trasporto ferroviario, ai trasporti pubblici, navi e traghetti, aerei, spogliatoi delle attività sportive e per recarsi al lavoro. Non serve il Green Pass invece per entrare nei negozi, per comprare degli alimentari, entrare nei supermercati, frequentare le edicole, i tabacchi, il bar con una consumazione però al bancone e non seduti al tavolo, per acquistare cibi e bevande da asporto e praticare sport all'aperto. Due pattuglie al giorno sono solo dedicate ai controlli. L'assessore Pozzi interviene sull'attività della Polizia Locale Pesarese. Ieri sono state compiute anche verifiche in palestra. Ho lavorato a una lista elettorale unitaria. Sono orgoglioso della scelta di Forza Italia. È una dichiarazione dell'assessore regionale Stefano Aguzzi, il quale rivendica la strategia politica che ha portato Forza Italia, quindi un partito di centrodestra, a colloquiare, a collaborare con il centrosinistra. Il compito, il progetto, l'intento è quello di non isolare il centrodestra e governare il territorio. Dunque un accordo con il centrosinistra e nell'attuale contingenza anche con il Movimento 5 Stelle per una lista in comune per il rinnovo soprattutto del Consiglio Provinciale che avverrà il 18 dicembre prossimo, quando voteranno i consiglieri dei 50 comuni che fanno parte appunto della provincia pesarese. Mentre i partner di Forza Italia in regione, che sono la Lega, Fratelli d'Italia, Udc e le liste civiche per le Marche, continuano a formare una lista antitesi, una lista che è alternativa invece al centrosinistra. Quindi c'è solo il distacco di Forza Italia. Spunta il ricorso, spunta il ritocco anche sui costi della bonifica dell'ex AMGA Pesaro, un aumento comunque contenuto nell'ordine di circa 10.000 euro e l'aumento dei costi. Il quadro economico dei lavori nell'area di via Morosini si attesta sulle 126.000 euro. Il termine dell'intervento è stato previsto dal comune per il prossimo mese di maggio. Ed ora veniamo alla cronaca. Ha rapinato e minacciato un coetaneo. Il burlo ragazzino è finito in carcere. Fa parte della baby gang di Piazza Redi. Per la procura dei minori ha un'elevata capacità di delinquere. Per la procura la misura si è resa necessaria sia per la condotta illecita e l'estrema gravità delle minacce di questo ragazzino, che poi ha una tenera età, è un minorenne, ma soprattutto per l'elevata capacità delinquere dell'indagato, esistendo un reale pericolo di reiterazione, visto il considerevole numero di reati perpetrati appunto da questo ragazzo. Ed è stato rinchiuso nel carcere minorile di Ancona. Musei civici. Terminato il restauro, la pala del Bellini torna a splendere. È un evento culturale di grande importanza questo, perché si tratta di uno dei capolavori massimi di tutta la pittura italiana, che è custodita nei musei civici di Pesaro. È una bellissima pala, la pala del Bellini, di cui purtroppo la Cimasa non è più a Pesaro, ma è conservata nei musei vaticani. Sopr'intendenza e Comune questo pomeriggio presenteranno l'intervento. Il restauro è stato finanziato da fondi ministeriali. È costato 36 mila euro, mentre il Comune ha coperto le spese per 12 mila e 800 euro per le operazioni di movimentazione del quadro del capolavoro. A Vallefoglia, il rogo di una fabbrica a Montecchio. Tenete finestre e porte chiuse, perché ci può essere anche un inquinamento che potrebbe danneggiare la salute. Sono andati a fuoco pannelli rivestiti in legno, già caricati sui bancali per essere spediti. Quindi il danno provocato dalle fiamme è piuttosto ingente. Secondo le prime indicazioni, le fiamme si sarebbero originate a causa di un surriscaldamento delle presse. L'unico dato positivo è che non ci sono stati né feriti né intossicati. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco intorno alle 19.30 di ieri, anche se poi i vigili hanno continuato a lavorare per bonificare il capanno fino a tarda notte. Quindi un evento di particolare gravità che è accaduto ieri a Montecchio. Per quanto riguarda Urbino, si parla di laboratori, consumi folli, così saremo sostenibili, e Uniurb responsabile, iniziative green in attesa del trasloco all'ex sogesta nel 2022. Si tratta di una raccolta corretta per quanto riguarda la differenziata e la riduzione dei rifiuti all'interno della Università. Un progetto che cerca di limitare e di organizzare meglio la raccolta dei rifiuti. Ma Urbino sarà oggetto di una visita importante proprio in questi giorni. La visita è a cura del Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, che visiterà l'Università e incontrerà anche il Sindaco. E questo sarà l'opportunità, costituirà l'opportunità per far sì che Urbino venga riconosciuta dal Senato come reale provincia, perché in passato, anche quando ci sono stati degli sgravi, dei bonifici per l'acquisto, per esempio, di biciclette, eccetera. Mentre Pesaro ha avuto i suoi bonus, Urbino non li ha avuti. Quindi, insomma, questo riconoscimento formale dovrebbe essere attuato anche di fatto. Ancora sui giornali, vediamo la pagina di Fano. La pagina di Fano, vediamo un articolo di ricordo per quanto è accaduto a Corinaldo tra la notte del 7 e l'8 dicembre del 2018. Una giornata dedicata al divertimento e nel sicurezza e al ricordo delle vittime di quella notte tragica. Si tratta di Benedetta Vitali, di Asia Nasoni, Daniele Pongetti, Emma Fabini, Mattia Orlandi, Eleonora Girolmioni, che a loro suffragio domani verrà così celebrata una messa in cattedrale. Poi verrà fatta un ricordo all'esterno della Chiesa. Ci sarà anche un convegno nella sala del Gonfalone a partire dalle 10.30 a cui parteciperà il prefetto di Pesaro, Tommaso Ricciardi. Ci sarà anche il maestro Mogol, presidente della SIAE, che è subito accettato, appena ricevuto l'invito, a partecipare a questo evento. Nell'occasione verranno consegnati anche i premi di laurea intitolati appunto ai ragazzi, alle sei vittime della strage di Corinaldo. Un momento di riflessione per quanto accaduto e soprattutto perché si possa impedire in futuro il verificarsi di questi eventi. Poi il Corriere parla anche di un progetto che è stato presentato ieri da due assessori, quello al welfare, al welfare Dimitri Tinti e allo sport, Barbara Brunori. Si tratta di un progetto che consente a diversi ragazzi, sono 60 i ragazzi, che potranno accedere agli sport gratuitamente. Sono ragazzi disabili che così potranno così esercitarsi fisicamente in questi sport, ma anche usufruire di un contatto di integrazione che è importante e influirà probabilmente anche nella loro riabilitazione. Ancora cronaca, Fano, estorsione, botte, Lex è un incubo. Si tratta di una coppia che è venuta alle mani che gestiva un negozio a Fano. Un 43enne fanese va a processo perché ha aggredito una donna, la sua socia, in affari, più volte. È definita al pronto soccorso da parte dell'uomo, suo dipendente. Sono state esercitate anche pressioni psicologiche per entrare in società. Gens Nova, l'associazione Gens Nova, si proclama parte civile. risse e vandalismi ma se ristà in silenzio è una presa di posizione dell'Udc che incolpa la Giunta di scarsi controlli nel centro storico dopo quanto accaduto nello scorso weekend. Sulla Valmetauro abbiamo ancora una notizia di Fano. Vediamo come la Giunta ha approvato il progetto di ristrutturazione viabile di tutto il quartiere di Sant'Orso ciclabili, le zone 30 e più sicurezza sono gli elementi di questa novità. Come cambia la mobilità nel quartiere? Lavori da 500.000 euro 300 arrivati da fondi ministeriali. Fossombrone, la città dei giovani è un progetto da sostenere. Il piano programmatico presentato in tempi record è suddiviso in 8 punti. 8 punti essenziali per realizzare una moderna innovativa biblioteca e creare nel frattempo spazi quali una sala studio per organizzare le attività per i più piccoli, promuovere le attività di volontariato nelle parrocchie, promuovere iniziative culturali ed educative. A Pergola Verzelli ritorno al futuro si parla di sanità Verzelli è un noto chirurgo la chirurgia sale di livello il bentornato di Baldelli lungimirante collaborazione con Gammarota ebbene ieri mattina è tornato ad operare nella nuova sala chirurgica del Santi Carlo e Donnino il dottore Augusto Verzelli si tratta di un grandissimo ritorno Verzelli direttore del reparto di chirurgia generale dell'ospedale di Fabriano aveva ricoperto già in passato per diversi anni facendosi apprezzare per la sua professionalità il ruolo di primario dello stesso reparto a Pergola a questo punto diamo un'occhiata anche al resto del Carlino guardando soprattutto le notizie di cronaca il Green Pass svuota gli autobus controlli senza multe ma i passeggeri calano del 15-20% nel giorno d'esordio delle nuove regole e vediamo anche la fotonotizia per quanto riguarda l'incendio che si è verificato a Vallefoglia per quanto riguarda la cronaca riprendiamo la notizia del baby bullo di piazza Redi in carcere un altro bullo della baby gang è un 17enne che rapinò un cellulare a un minore se dici qualcosa ti uccido aveva intimato l'episodio avvenne in un parco cittadino nel luglio scorso e poi ancora un successo nello spaccio della droga sono traffici di famiglia questi che hanno coinvolto la moglie l'amante è ovviamente l'uomo lui è un nome noto nel traffico di stupefacenti tra Romagna e Pesaro e si era distinto come pusher dei parcheggi nei centri commerciali si chiama Mario Bechirai e ieri con altri complici ha patteggiato la pena a 4 anni e 2 mesi per un chilo di polvere che gli era stato ritrovato in una intercapedina esterna della sua abitazione a Santa Veneranda e con lui sono stati condannati anche la moglie e appunto l'amante Zuffa tra ambulanti spuntano le spranghe è accaduto a Sant'Angelo in Lizzola una zuffa tra due ambulanti uno aveva parcheggiato il mezzo in un modo un po' un po' ostativo perché quell'altro non riusciva poi arrivare alla sua bancarella sono iniziate delle parole grosse e poi addirittura si sono venuti alle mani al mercato di Sant'Angelo in Lizzola insomma anche qui un fatto di cronaca non è molto grave ovviamente come gli altri però è sempre da segnalare e invece è da segnalare in maniera decisiva quello che accade nella Galleria Roma a Pesaro sangue in Galleria Roma vediamo qui il titolo l'ira dei commercianti domenica scorsa due persone sono venute alle mani vicino ai negozi per noi dicono i commercianti questa purtroppo è la normalità ma ormai il comune ci ha abbandonato abbiamo mandato un esposto fatto una raccolta di firme nessuno ha mai risposto pauroso incendio fabbrica semidistrutta Sant'Angelo in Lizzola rogo devasta lo stabilimento della Eredi Paolini oltre 300 metri quadrati su 700 danneggiati dalle fiamme i danni sono ancora tutti da calcolare con precisione si sa però che 10 quintali di merce che era già pronta per essere venduta è andata distrutta a questa va aggiunta il danno della struttura con parte del tetto coibentato è andato devastato anche quello insomma danni alle merci ma danni anche al fabbricato giriamo ancora la pagina siamo a Durvino e vediamo la fotografia della Presidente del Senato della Repubblica la Casellati che arriverà appunto nella città Ducale e il Sindaco ha pronto Sindaco Gambini ha pronto delle richieste di cui vi ho parlato anche prima intervenite sulla scuola del libro il fissi con la brodo e ci piove dentro vedete qui questa foto significativa con delle pozzanghere all'interno del locale con dei tavolini e l'acqua che piove dal soffitto le classi si allagano aule fredde i ragazzi si stanno ammalando nessuno ci ascolta questa è la protesta di una mamma e poi ancora Santerduini l'arte che viene dalla terra il pittore Urbinate si confessa a margine della sua mostra il silenzio dei campi e tutto quello che cercavo stava vicino a me il silenzio dei campi che in questo caso parla e parla in modo significativo grazie appunto all'arte di Arduini il modus operandi parto dai bozzetti prima del quadro sono le mie storie per un racconto e anche a Durmino si sono compiuti i controlli per il possesso del Green Pass sugli autobus una trentina non sono state levate multe ma c'è incertezza per il QR code di un 17enne che non veniva riconosciuto ma alla fine tutto si è risolto a suo favore spesso infatti i Green Pass non vengono letti bene dai telefonini dei controllori e quindi ci vuole del tempo prima che si rilasci il via libera e con questo abbiamo concluso la rassegna stampa delle notizie però voglio anche dirvi qualcosa per quanto riguarda lo sport lo sport e vediamo che sulla vis si riflette su quanto è avvenuto nell'ultima gara vis tosta e solida tutti vanno a mille e cresciamo di più Gavazzi bella conferma con l'olbia chi entra può risolvere la partita ottimo gruppo chiunque giochi al mio fanco in difesa sono tranquillo insomma la vis va a gonfie vele non così il Fano che è in fase di correzione la squadra ha ripreso gli allenamenti senza capellacci la società guarda sempre più al mercato la squadra deve essere rinforzata Califano dice se fosse di peso solo da noi i rinforzi sarebbero già arrivati vogliamo giocatori di categoria insomma la squadra deve rinforzarsi perché se continua così si è iniziato bene con il cambio dell'allenatore ma poi tutto si è fermato e noi qui ci fermiamo anche noi questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 con le notizie appunto dei giornali ma per le notizie del giorno vi invito ad osservare occhio alla notizia il TG di Fano TV questa sera alle ore 20 e 30 ancora un saluto a risentirci grazie